buongiorno amici buongiorno amiche salutiamo paschi che ci ospita nel suo canale e oggi andiamo a provare anzi per prima cosa facciamo l'unboxing di questa bella pandora box vedete è la pandora box edizione decimo anno è carino il manuale è in è in inglese ma è plastificato è ben è ben congeniato quindi sicuramente sicuramente utile poi cosa abbiamo in confezione abbiamo un cavo vga per chi la vuole attaccare ad un monitor per chi ha una tv vecchia di ben tre metri che non sono pochi abbiamo il cavo per l'alimentazione abbiamo l'alimentatore abbiamo un cavo hdmi di ben tre metri su pandora e più economiche ho trovato cavi di un metro e mezzo due qui sono tre metri già vi fa capire che non sono andati al risparmio e poi un cavo usb maschio usb maschio sempre mi pare a un metro e mezzo che è sempre sempre utile comprarlo costa dei dei gran bei soldi eccolo qua poi cosa abbiamo in confezione abbiamo due due tasti sostitutivi anche questi sono utili perché giocandoci a lungo si possono rompere e quindi queste sono di in sostituzione comunque il produttore è molto famoso e se vi dovessero essere problematiche su dei pezzi da da ricomprare non ci sono problemi questa è la pandora vedete com'è bella è molto grande è un po' più grande di quelle che ho che ho già provato e trovate in commercio vi metterò in descrizione le misure è anche molto pesante questo è metallo questo sopra è plexiglass poi l'accendiamo ci giochiamo vi anticipo che il plexiglass non si illumina ma si illuminano i tasti e ha anche una cassa integrata adesso ve la faccio vedere anche vedete qui davanti non c'è niente sotto c'è un po' di dissipazione la parte più interessante chiaramente è dietro vedete l'alimentazione hdmi vga l'sd ce n'è già una inserita chiaramente con i giochi e le due porte usb dove una probabilmente serve per attaccare dei gamepad cosa che io cosa che io farò e che andremo poi a giocarci quindi come struttura è molto grande un po' più grande delle altre quindi attenti all'ingombro è più solida delle altre perché è tutto metallo ovunque metallo i suoni sono sono buoni suonano di qualità e adesso vi faccio un attimo rivedere i tasti ma come vi dicevo la vedremo poi all'opera adesso questo è solo un unboxing ora l'accendo e vediamo come come gira ok eccoci qua amici l'abbiamo accesa e vi faccio vedere per prima cosa il menu di configurazione menu che vi anticipo non è disponibile in italiano ma c'è inglese cinese e spagnolo quindi facciamoci andar bene il buon vecchio inglese facciamo una piccola scorsa vedete c'è la configurazione al wifi io mi sono connesso da quando ho ricevuto questa pandora ho ricevuto ben tre upgrade software veramente notevole questa cosa questi sono lo speaker integrato nel box della pandora ho preferito spegnerlo io perché era un po troppo alto per i miei gusti ma magari se a voi piace potete tenerlo acceso torniamo al menu principale eccolo qua facciamo sempre una scorsa veloce perché non possiamo vederlo tutto vedete la lista favoriti molto utile in questi giochi in inglese come vi ho già detto è quello che useremo perché non c'è l'italiano per accedere a questo menu dovete premere un pulsantino nascosto che si trova davanti alla pandora vicino alle porte usb adesso io provo ad uscire e non ho esco proprio salva esci e ci porterà al menu principale della pandora dove vedremo i giochi quindi sta uscendo dal menu settaggio ecco qua questo è il menu principale della pandora vedete una pagina di 518 significa che ci sono 5172 giochi sono divisi vedete tra playstation naomi super nintendo nintendo 64 una cosa che vi consiglio di fare è tenere premuto il tasto start perché vedete tenendo premuto il tasto start avrete i giochi recenti potete ricercare il gioco che volete avendone 5000 è molto utile questa funzione li potete ordinare in ordine alfabetico oppure lui ve li mette ve li distingue tra giochi 3d quindi spara tutto insomma per genere di lotta calcio e poi anche per console quindi mame playstation portable playstation 1 ecco qua vedete nintendo 64 solo tre giochi super nintendo e via e via dicendo poi tornando alla lista preferiti io ho già messo una chicca che voglio farvi voglio farvi vedere anzi lo troviamo anche sui recenti guardate che questo gioco che è ricercatissimo da tutti i malati di videogiochi un po' old style vedete la schermata il caricamento e il fantastico kenshiro vedete della siga giochiamo guardate quanto è bello guardate come scorre è un po' stile street fighter vedete è un gioco pesantuccio si è si è caricato relativamente velocemente adesso vedete se premio premio select potete aggiungerlo ai preferiti continuare quello che state facendo salvare la partita se ad esempio vi volete allontanare o volete un attimo giocare un altro gioco potete qui salvare la partita e poi riprenderla in un secondo momento chiaramente se la console viene spenta questa funzione si azzera quindi nella stessa sezione di game vediamo qua è qui vedete i soliti menu torniamo al menu principale vi continuo a far vedere un po' un po' quello che c'è molto belle le anteprime video calcolate che le vecchie pandora avevano delle anteprime non video oppure solo delle foto invece vedete qui ci sono degli ottimi filmati che vi fanno già vedere come come sarà il gioco a cui andremo a giocare 5000 giochi non sono pochi quindi non c'è la possibilità di scaricare ulteriori giochi cosa che per esempio in un'altra pandora che trovate recensita nel canale cina deals è possibile scaricare alcuni giochi non molti da un cloud ma sono scaricabili in questa no però comunque come vi dicevo ha già ricevuto tre aggiornamenti quindi firmware che sono veramente tanti per una pandora poi cosa vi ho detto vi farò vedere che adesso finito un attimo di vedere quali interfaccia vi faccio vedere com'è la pandora al buio quali sono le sue le sue specifiche estetiche giochiamo a qualcosa vediamo un po anzi facciamo così vediamo se funziona la 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 il cerca facciamolo insieme vedete man mano che vado a selezionare mi restringe il campo io volevo ghost and goblin chiaramente e l'abbiamo trovato ora ci giochiamo e lo mettiamo tra i preferiti il mitico ghost and goblin lo mettiamo tra i preferiti vedete è andato nei preferiti ora usciamo quindi una console veloce a 5.000 giochi che non sono tanti perché ho visto delle pandora con anche 10.000 15.000 giochi questo a vostro a vostro gusto sicuramente i giochi principali ci sono ma non saranno mai tutti e purtroppo almeno io non sono capace a raggiungerli se comunque sappiate che i giochi sono contenuti nella sd che viene fornita dal produttore se qualcuno di voi è più smanettone e magari trova una guida come aggiungere i videogiochi su sulla pandora perché poi alla fine sono tutte uguali quindi se trovate una procedura è buona un po' per tutte le pandora anche perché credo che girino con un raspberry fondamentalmente me la potete linkare io non sono stato capace ad aggiungere i giochi ma se qualcuno è capace me lo può dire nei commenti e magari pinnerò la guida in evidenza in modo tale che chi la compra può poi in un secondo momento in un secondo momento guardarla adesso fermo un attimo il gioco vi faccio vedere come è fatta al buio e aspettate un attimo eccola qua vedete al buio si illuminano i tasti una luce abbastanza forte anche un po' troppo sinceramente io non sono stato capace a ridurla non si illumina qua la console ma solamente i tasti dietro davanti e laterale non si illumina non si illumina nulla vedete ecco la pandora all'opera al buio vedete i tasti sono facili da trovare al buio perché sono illuminati il case non si illumina vedete stiamo giocando al buio e si vede abbastanza abbastanza bene la conclusione è un'ottima un'ottima soluzione un'ottima pandora non costa neanche tanto perché costa poco più di un centinaio d'euro la spedizione è un po' cara però è veloce e il prodotto mi è arrivato senza pagare la dogana quindi assolutamente consigliato lo store che me l'ha venduta perché sono stati bravi e professionali inoltre vedrete che hanno molti accessori anche di ricambio quindi un domani potete stare tranquilli che se vi serve una manopola vi serve un pulsante a parte che i pulsanti ce ne sono già due in confezione potete sicuramente contare sul venditore perché è un venditore professionale con ottimi feedback su Aliexpress ciao a tutti ci vediamo con la prossima Pandora ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti